buongiorno buonasera e buonanotte adesso in tutti i blog inizio così perché mi piace di più non so perché comunque nuovo blog come leggete dal titolo diverso perché volevo farvi vedere un bel po di cose però prima di iniziare questo blog voglio dirvi che questo blog lo vedete sabato che il primo maggio allora dato che festa in teoria quando festa i giorni in cui è festa che io pubblico i video non diciamo non pubblico i video quando è festa in quel giorno in poche parole però dato che ho tantissimi video in programma e tantissimi video già monta già montati già registrati allora questo video lo vedete lo stesso il primo maggio anche se festa per cui io spero lo stesso che lo vedete e che vi piace lo stesso questo video perché vi voglio far vedere tantissime cose ci sono tante novità sui prodotti nuovi e uno shopping che ho fatto però prima di iniziare volevo dirvi una cosa allora io voglio fare un video praticamente rispondere alle domande così almeno mi conoscete meglio ad esempio che ne so quanti animali ai di dove sei che lavoro fai c'è praticamente in genere questi queste domande qua no e dato che io avevo fatto un sondaggio su sulla community di youtube che questo se vi faccio vedere io allora il sondaggio è questo qua non so se lo vedete e questo e l'ho messo un giorno fa e praticamente ho ricevuto quattro voti sono rimasto un po ci sono rimasta perché ho detto ma l'altra settimana due settimane fa avevo fatto un sondaggio su sul blog se volete blog eccetera e hanno risposto ventiquattro persone c'erano ventiquattro voti e già era era già buono ritrovare in un giorno commesso questa diciamo questo questo sondaggio quattro voti sono rimasta un po così così per cui la maggior parte anche se ho fatto questo sondaggio non mi ha scritto in privato tramite mail tramite instagram non mi ha non mi ha scritto in privato per diciamo farmi qualche domanda per il video perché ho avuto questa idea di farmi conoscere meglio e rispondere a vostre domande tramite un video su youtube sul mio canale ho provato anche farlo su instagram che ho fatto un sondaggio dove fatemi delle domande per questo video che poi vi risponderò nel video l'unico che ha fatto una domanda è stata una persona che ringrazio tantissimo perché credo perché so che guarda i video per cui ringrazio questa persona che mi ha fatto questa la domanda invece tutte le altre che ho avuto 50 visualizzazioni su instagram perché io 500 follower però la maggior parte non mi caga nessuno o tantomeno non mi cagano e c'è quello che penso io perché guardate le mie storie mi seguite su instagram o su youtube se poi non guardate i video oppure non partecipate ai sondaggi cioè questa cosa non l'ho capita perché ci sono rimasta male dato che non ho ricevuto almeno cinque sei domande non di più ma almeno cinque sei domande dato che 40 persone hanno visto 50 persone hanno visto il sondaggio che io ho fatto sia su instagram che su youtube almeno un po' di persone volevo che mi facevano delle domande invece invece che sinculate non lo so non lo so che cosa ho io e gli altri sono il top dei top cioè non lo so ci sono rimasta veramente male perché io preferisco che le persone mi seguano veramente che piacciono i miei video e quello che faccio per cui almeno partecipare ai sondaggi mi piacerebbe dato che vedo tantissime persone anche youtuber che fanno sondaggi e hanno tantissime risposte io invece metto un sondaggio su instagram o peggio lo faccio su community di youtube nessuno mi risponde come se ci sono solo io che sono da sola la scema di turno che dice stai parlando da sola tutto qua cioè questa è la mia è quello che penso io perché nessuno partecipa ai miei sondaggi vorrei capirlo per cui se mi scrivete qua sotto le domande che volete farmi per conoscermi meglio così lo farò nel prossimo video che non so quando sarà perché ho tutto programmato se almeno una domandina me la fate per conoscermi me lo scrivete sotto in questo video vi ringrazio in anticipo perché io ci tengo tanto specialmente quando faccio i video perché ci metto di impegno poi ci vuole tempo per fare i video non è che faccio i video così e poi li monto subito per cui dato che io non lo faccio solo per me lo faccio anche per gli altri per cui se a me non mi piace fare i video ovviamente non lo faccio più ma dato che a me piacciono li faccio e non lo so se mi fate domande anche una domanda sotto in questo video che poi vi risponderò nel video delle domande sarei grata perché ci tengo moltissimo anche se non mi interessa i cavoli miei in poche parole cioè non dico della mia vita privata però qualcosina non so cioè ci sono rimasta un po' veramente male volevo dirvi questo mi sono già sei minuti che parlo oh mio dio comunque detto questo spero che ho detto tutto adesso vi faccio vedere il mio shopping che ho fatto che ho preso due paia di scarpe per cui ve le faccio vedere che poi ci sarà tra un mese o due la nuova collezione di tutte le mie scarpe perché quel video è una figata e poi vedo che molte persone piacciono per cui lo vorrei rifare detto questo faccio vedere e poi vi faccio vedere anche le novità dei prodotti che ho comprato stavo dimenticando allora non vi ho detto questa cosa qua quando io ho finito di fare il vlog dell'altra l'altro vlog credo che è passato una settimana quando io ho smesso di registrare per poi montare il vlog eccetera è capitato che sono il giorno dopo sono andata in balcone non so se avete visto quel vlog e se vi ricordate ma io ve l'avevo detto in quella clip che avevo messo la gabbia con il formaggio dentro per prendere un altro topo che per me l'altra volta era piccolino nero no quando io ero lì sentivo dei rumori detto mo strano vado a vedere e dentro la gabbia c'era quel topo enorme cioè io dico quel topo perché ormai passato una settimana da quando l'ho preso per cui ora che sto registrando comunque ho preso quel topo dentro questa gabbia che è enorme adesso vi metterò anche la clip di questo topo enorme con la coda gigante che io pensavo che era un topino piccolino nero invece no l'altro topo piccolino nero secondo me è andato da un'altra parte perché non si è più visto invece questo qua che siamo riusciti diciamo a prendere ed è stato lì praticamente dalla sera fino al pomeriggio no sì dalla sera fino alla mattina è stato tutto il giorno praticamente in gabbia che si muoveva io l'ho visto mi sono spaventata perché ho detto oh ma adesso se esce ok che in teoria non potrebbero uscire comunque ho diciamo preso questo topo enorme per cui adesso vi farò vedere la clip che io ci sono rimasta scioccato detto e la madonna cioè sono rimasta proprio così infatti dopo il giorno dopo che io ho registrato il vlog ho praticamente preso un altro topo spero che non ci saranno più topi perché ho provato a mettere ancora la trappola con il formaggio ma vedo che per il momento non è entrato nessuno e non ho diciamo visto un altro topo per cui per fortuna sperando che non arrivano più e che non ci sono più per cui per il momento non ci sono stati topi e volevo dirvi questo per cui adesso vi farò vedere la clip mamma mia mamma mia ma c'è una colta così lunga che schifo quanto è brutto che schifo già tanto che sono qui ora siamo riusciti a prenderla che brutto questo è una ciamagna questo è il topo enorme che abbiamo preso comunque detto questo una ragazza mi aveva scritto sotto in un commento cioè mi aveva fatto una domanda però quando le persone fanno delle domande o scrivono sotto nei commenti uno può interpretare la domanda praticamente all'incontrario perché c'è gente che ti scrive cattivere cioè ti scrivono ad esempio una volta ho ricevuto un altro commento che però non era un commento come per dire io ti ho fatto questa domanda ma era per sapere no quell'altro commento era praticamente io sono amante degli animali perché devi ammazzare questa povere questo povero animale che non sto parlando sto parlando un altro animale questo povero animale invece di lasciarlo libero questo ad esempio è un esempio che vi sto facendo no invece questo commento era una domanda io ovviamente l'ho capita male perché giustamente su youtube specialmente quando ricevi dei commenti non sai se la domanda è una domanda come per dire non lo so non me l'intendo di topi oppure è una domanda in cui dici a me piacciono gli animali perché li ammazzi questo è quello che ho praticamente ho pensato io per cui vabbè io mi scuso con quella persona che ha capito male e che anche io ho capito male della sua domanda però per farvi capire in breve i topi specialmente i topi di fogna perché ci sono due topi diversi topi di casa e topi di fogna i topi di fogna che sono quelli che becco io sul tetto in giro poi io qua ho un bosco un po' più distante per cui anche per quello forse arrivano i topi poi anche i tombini eccetera con il lago eccetera praticamente i topi arrivano no per cui i topi di fogna sono topi che vanno ammazzati perché poi dopo si accoppiano e ti fanno dei danni ad esempio a me hanno fatto il danno sul tetto e poi ti fanno i danni che ne so ti mangiano di tutto anche gli zaini eccetera per cui quelli vanno ammazzati io quando prendo i topi ad esempio questo qua che ho preso lo ammazzo lo annego cioè non è che lo faccio io perché non ho il coraggio lo fa tipo il mio ragazzo o i miei genitori o i miei zii ad esempio per cui lo fanno loro prendono il topo e lo annegano perché questo è un topo di fogna i topi invece di casa che sono piccolini così bianchi adesso vi metterò una foto tra il topo di casa e il topo di fogna così almeno vedete la differenza i topi di casa che puoi tenerli in gabbia in poche parole o lasciarli anche in giro sono topini con la coda lunga che quelli non fanno niente possono stare in gabbia possono stare dentro in casa e essere animali normali allora ci può stare però a me non piacciono i topi e non li voglio per cui anche se sono quelli di casa non li voglio comunque questo è diciamo per farvi capire il perché io ammazzo il topi ma di fogna non di casa vorrei specificare questa cosa qua per cui spero che ho detto tutto e dato che ho parlato 300.000 ore direi di farvi vedere tutto quello che ho preso perché se no qui dopo le persone si lamentano che i video durano troppo eccetera per cui è meglio farvi vedere quello che ho preso sono andata da Pittarello questa è la scatolina Pittarello grande ho preso due paia di scarpe ok ho cambiato posizione perché perché poi devo farvi vedere anche gli altri prodotti scusate se non c'è luce ma oggi nuvoloso per cui è inutile usare la luce accendere le luci per farvi vedere comunque tanto lo vedete lo stesso allora vabbè queste sono le scarpe che in teoria ha preso il mio ragazzo il mio ragazzo che ovviamente c'è la sua lui l'ha pagate 36 euro e 90 che sono vediamo se c'è qua non so se si vede ma c'è l'immagine io invece ho preso allora io non volevo prendere le scarpe però dato che mi servivano perché quelle che ho sono rotte e da cinque anni che ho le scarpe e dopo un po ovviamente mi sono rotte però io non sono una che cambia dopo un anno dopo due anni le scarpe perché io preferisco consumarle proprio fino a quando non sono consumate e poi comprarle infatti ho fatto così non volevo comprarle per il momento ma volevo aspettare ancora un po poi dopo vabbè mia mamma mi fa te li compro io alla fine mi ha comprato le scarpe per cui i due pacchi che vedete me l'ha presi lei allora il primo è quello della levis che l'ho pagati 44 euro io porto il 39 barra 38 dipende dal modello questi sono della levis e ho preso il 39 come vedete c'è la scapola e vi faccio vedere le scarpe sono queste dato che mi piacevano poi ho notato che fanno le scarpe tutte bianche cioè le scarpe così tutte bianche non so perché c'è sto moscerino e vabbè comunque ve ne faccio vedere una però sono così allora sono fatte bianche così spero che si vedano con la scritta della levis sia di fianco che qua sopra e dietro sono rosse e blu tanto cioè si vedono anche senza luce vi avvicino ma cioè sono fatte così e si vedono tanto poi le vedete indossate quando farò il video della collezione delle di tutte le mie scarpe che male spero che non mi esce sangue e niente queste sono praticamente il primo paio di scarpe che poi c'è scritto esclusiva da pittarello della levis cioè dato che io non ho le scarpe della levis le ho volute prendere e sono troppo belle e allora ho preso queste alla fine mi ritrovo con tutte le scarpe bianche comunque questo è un primo piano è il primo paio il secondo paio sono queste che invece di pagarle 28 euro costavano 19 euro erano scontate infatti c'erano praticamente altri prezzi tanto di là le metto allora queste sono le altre scarpe e sono fatte così sono tipo un marroncino beige sì su un marroncino sono tutte e due così alte con il tacco praticamente hanno queste che non mi ricordo come si chiamano come sempre comunque fatte così e li chiudi praticamente così con il tacco che credo non me li intendo ma saranno più di 5 cm di tacco le ho prese perché ho detto io dato che io cammino con i tacchi mi piace camminare con i tacchi giustamente ho preso questi e sono comodissime perché sono comode e le userò di più quando vado in giro infatti mi piaceva il tacco poi mi piacevano come erano fatte perché sinceramente volevo cambiare sia il colore che il modello ho preso questo modello qua tanto per cambiare quando l'ho provata che erano comodissime ho detto li voglio poi per 20 euro e niente queste sono l'altro paio di scarpe comodissime allora credo che i saldi e gli scondi ci saranno ancora per cui andate a vedere da Pittarello perché ci sono dei bei saldi poi quando ritornerò ancora comprerò altre scarpe perché mi servono le scarpe tutte quelle che ho sono vecchissime e sono un po' usate per cui un po' vanno cambiate comunque totale 100 euro e 80 perché comprese anche quelle del mio ragazzo per cui scarpe della Levis 44 invece le altre 20 euro e le altre del mio ragazzo 30 36 euro 90 poi volevo farvi vedere le novità le novità sono che ho scoperto queste due queste due pastiglie come avete visto nell'anteprima ho scoperto queste due pastiglie per la lavatrice allora questa è una pastiglia della Leesonform che igienizza praticamente è igienizzante rimuove batteri e praticamente è quello uguale al liquido ma credo che dovrebbe avere differenza comunque c'è questo che è nuovo e questo qua adesso vi farò vedere anche dentro le capsule comunque questo è della Leeson questo qua è multicolor che è per la brillantezza queste ci allora tutte e due l'ho presa su Amazon c'è lo sconto per cui due di questi che adesso vi faccio vedere due di questi 20 euro se non mi sbaglio ci sono dentro 56 pastiglie diciamo in una confezione per cui l'ha pagata ovviamente mi ama però questi li abbiamo presi per provarli e dovrebbero costare sui 20 euro su Amazon io li ho presi su Amazon perché erano scontati e poi c'è questo della Leesonform questi sempre 20 euro scontati abbiamo preso tre pacchi per cui come vedete ci sono tre pacchi adesso vi faccio vedere le pastiglie cioè come sapete io uso le pastiglie per la lavatrice per cui calcolate che io mi sto trovando bene e adesso dato che ci sono le novità di questo e dell'altro ovviamente volevo farvele vedere questi della Leesonform sono così praticamente sono tre c'è l'ammorbidente e le altre praticamente hanno un odore buonissimo e i genizzano i vestiti per cui ve li straconsiglio perché l'ho usato l'ho usata l'altra volta ed è buonissimo i genizzano questi qua invece mamma non potete capire che profumo che buono questi invece sono tre sono colorati così no vabbè questi ancora li devo provare ma secondo me sono buonissimi no sono troppo buoni secondo me che vale sto moscerino cioè io ve li consiglio perché io mi trovo bene con questi li trovate su Amazon per cui se volete acquistarli andate su Amazon scrivete Deep Sun Capsule Power e l'altro Lison Form Capsule Lavatrici che tanto li trovate sono in promozione perché ora che vedete questo video che sarà sabato credo che ci saranno ancora per cui ve li straconsiglio perché sono buoni queste praticamente erano le novità erano le novità delle pastiglie che volevo farvi vedere perché c'è gente che è interessata e allora ho detto io le faccio vedere allora sto video di sicuro è durato non so cosa lo so che è stato più un video vlog chiacchierino o diciamo sugli acquisti però volevo farlo diverso per cui dato che io devo registrare un altro video che devo finire di registrare non che devo registrare devo finire di registrare un altro video direi che questo vlog lo concludo perché sennò dopo diventa troppo lungo e io non poi non riesco a montare poi detto questo volevo dirvi che dato che io lavoro io sto mi sto organizzando per registrare i video e programmarli un papino sempre e programmarli per cui tutti i video che vedete piano piano sono già registrati perché non ce la faccio se io lavoro che sono 4-5 ore di lavoro calcolate anche di più di 5 ore di lavoro calcolate che io non riesco poi a registrare i video o a montarli per cui quelli che vedete piano piano sono quelli registrati volevo dirvi questo perché adesso il lavoro inizia a esserci di più per fortuna per cui meno male che il lavoro c'è e sarà un po' difficile pubblicarle come prima però se per caso non vedete i video pubblicati ad esempio tre volte a settimana calcolate che pubblicherò anche due volte sperando di riuscirci se no farò una volta a settimana io vorrei già avvisarmi cioè vi avviso già perché se no poi non si sa mai se poi non riesco a fare i video comunque vabbè io sono una che mi organizza sempre e faccio tutto è impossibile che non riesco diciamo a registrare a montare e fare tutto quello che per youtube in poche parole perché io ci tengo il mio canale ci tengo che le persone guardano i miei video perché ovviamente sono video naturali sono video veri e non video tutti falsi come certi youtube per cui direi che concludo quel vlog perché di sicuro è durato più di 25 minuti solo perché io devo parlare 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 vabbè vado a fare altre cose se no non riesco a fare niente per cui scusate se era un video un po' così e non vi ho mostrato quello che faccio oggi ma appunto ho parlato fin troppo per cui preferirei mostrare le cose che ho comprato così almeno poi le posso usare niente spero che ho detto tutto ci vediamo al prossimo video io vi aspetto e mi raccomando lasciatemi qualche domanda qua sotto così nel prossimo video delle domande io rispondo per cui grazie per chi mi lascerà sotto qua le domande per per conoscermi meglio per chi vuole conoscermi meglio per cui grazie e noi ci vediamo al prossimo vlog al prossimo video ciao